Musica Sara Gonsalvo Lucilla Violetta Sacqua Jacopo Di Modugno Alessandro Addosio Istituto Giacinto dell'Olio, Biceglie Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci Il Liceo Artistico Federico II di Corato Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci Solare Sicuro di me stesso Caparbia Responsabile Determinata Molto appassionata Socievole Molto disponibile Determinato Curiosa Testato Ambizioso Legge, sono appassionato di cinema e di videogiochi Il mio hobby è sempre stato il calcio, ma la mia passione vera e propria è organizzare, praticare e viaggiare soprattutto Mi piace molto leggere, pratico molto sport Soprattutto d'estate, adoro andare in bici, anche nuotare Amo molto leggere e scrivere, però il mio hobby in particolare è per il disegno Sì, frequenterò l'Università Vita e Salute San Raffaele e quindi con la Facoltà di Medicina Sì, sicuramente proseguirò gli studi, però sto valutando tra la Facoltà di Disegno Industriale al Politecnico di Bari e quella di Grafica Pubblicitaria all'Accademia di Foggia di Belle Arti Continuerò i miei studi presso l'Università degli Studi del Molise a Termoli, dove prenderò la Facoltà Scienze del Turismo, Turismo e Beni Culturali Sì, proseguirò gli studi, probabilmente presso il Politecnico di Torino, frequenterò gli ingegneri e forse probabilmente lo spaziale Il mio sogno nel cassetto è quello di valorizzare i nostri territori, i territori del Meridione in particolare della Puglia, Abruzzo e Molise, dei quali io sono particolarmente appassionato quindi scoprire i loro angoli più nascosti, più segreti per valorizzare sotto forma di turismo Spero di diventare ingegnero spaziale, di riuscire a lavorare su progetti interessanti Il mio sogno nel cassetto è attraverso la mia creatività, creare qualcosa che possa cambiare la vita delle persone, anche solo emozionandole Innanzitutto diventare un buon medico, però avere anche la possibilità di viaggiare Molto positiva la mia esperienza scolastica, ovviamente numero 10 Non dimenticherò mai i miei professori, i compagni di classe, così come la gita a Venezia o a Policore Sicuramente la mia esperienza scolastica è stata molto positiva, quindi do sicuramente un 10 Ciò che non dimenticherò mai è l'apporto che mi è stato dato durante questi anni dal mio professore di spagnolo e dalla mia professoressa di geografia Che mi ha fatto appassionare appunto del nostro territorio e delle ricchezze che vanno tutelate e valorizzate Un'esperienza che non dimenticherò mai sono sicuramente i numerosi viaggi che ho fatto Primo fra tutti quello di Valencia l'anno scorso E spero che anche la prossima esperienza a Siviglia possa essere una grande opportunità, un viaggio appunto indimenticabile Sicuramente 10 per i miei compagni di classe, per i professori e totale per tutta l'esperienza dei 5 anni Ma soprattutto forse l'esperienza che non dimenticherò è stata la gita a Policoro del secondo anno E l'opportunità che mi è stata offerta dalla scuola di poter frequentare una settimana la scuola superiore Sant'Anna di Pisa La valuto con un 9 e non dimenticherò mai i miei professori di storia dell'arte e di progettazione Che mi hanno trasmesso una grandissima passione per le materie